Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Foravano gomme delle auto per derubare mai capitati in tutta Italia, arrestati tre napoletani Fate attenzione quando dragherete il porto, potrebbe esserci la salma di mia madre E' l'appello lanciato dalla figlia di Carla Rovaldi, scomparsa tre anni fa dal Lido di Fanno Assunzioni irregolari in regione, istituita dall'Azur una commissione di indagine Il Santa Croce con chirurgia, una nuova struttura convenzionata a Fanno e 20 milioni di euro per la viabilità Approvato dalla Giunta regionale e il protocollo d'intesa con il Comune di Fanno Partito in conto alla rovescia per la Colle Marathon, superata già la soglia dei mille iscritti Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca I carabinieri di Forlì hanno arrestato tre napoletani che foravano pneumatici in tutta Italia per derubare i malcapitati La banda di quarantenni avrebbe agito anche a Fanno Allora sentiamo che tecnica utilizzavano nel prossimo servizio di Lino Balestra Tre pluri pregiudicati napoletani quarantenni sono stati arrestati all'alba di ieri dai carabinieri di Forlì coadiuvati dai colleghi partenopei I tre sono stati individuati e bloccati nelle loro abitazioni a Napoli Dovranno rispondere di furto aggravato e continuato Denunciata in stato di libertà una quarta persona per ricettazione I tre veri professionisti secondo gli investigatori agivano in tutta Italia con la tecnica della gomma sgonfia Dopo aver individuato alla vittima sempre un'automobilista di mezza età o anziano Attendevano che si recasse a fare spesa per poi forargli lo pneumatico anteriore destro Quello opposto al lato guida Quando il malcapitato era impegnato a sostituire la gomma uno dei due malviventi Arraffava tutto quello che trovava nell'abitacolo Puntando naturalmente al portafoglio e al telefonino Pochi minuti dopo grazie al grave errore commesso da molti di tenere traccia del PIN Nelle carte di credito del portafogli o nella rubrica del cellulare I malviventi prelevavano tutto il contante possibile E recatesi nel più vicino centro commerciale ad acquistare prodotti tecnologici Il furto del telefonino rendeva inoltre molto più problematico e lento il blocco delle carte di credito Le indagini partite a Forlì lo scorso 31 ottobre hanno permesso di individuare l'auto usata dai malviventi e la loro identità Al trio viene attribuita almeno una quindicina di colpi commessi a Fano, Forlì, Roma, Prato, Desenzano del Garda, Bologna, Pomezia, Firenze e anche Venezia Ma secondo i militari dell'arma potrebbero essere stati molti di più E adesso torniamo a parlare delle assunzioni irregolari in regione Per le quali sono indagati 53 dirigenti sanitari per abuso d'ufficio Perché oggi l'Asur ha formalizzato la costituzione di una commissione per approfondire i fatti oggetto di indagine Prima convocazione 2 maggio alle 10.30 per l'insediamento e pianificazione dei lavori L'amministrazione ricercherà ogni elemento informativo necessario La commissione inoltre è composta da 5 dirigenti Asur e da una docente dell'Università Politecnica delle Marche A febbraio 2015 un'anziana di 84 anni, Carla Rovaldi, scomparve da casa I sommozzatori di Vigili del Fuoco scandagliarono senza esito le acque nel porto canale Pensando ad un gesto estremo della donna Ora l'imminente dragaggio delle Darsene a Fano Visto questo dragaggio la figlia lancia un appello all'amministrazione comunale E alla società che dovrà eseguire i lavori Sentiamo Scomparsa senza lasciare traccia Carla Rovaldi, fanese di 84 anni, il 21 febbraio esce di casa In via Franceschini nel cuore della notte con indosso solo il pigiama e le ciabatte da camera Nella zona del porto e viene inghiottita nel nulla Le ricerche che dureranno oltre una settimana si inconcentrano subito nella zona del porto Pensando ad un gesto in fausto dell'84enne Da Bologna arrivarono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che scandagliarono tutto il porto canale Ma senza trovare nessuna traccia dell'anziana Nei giorni successivi le unità della Capitaneria di Porto ispezionarono il tratto di mare Tra Fosso Seiore e la Foce del Cesano Ma anche queste ricerche andarono a vuoto Oggi in occasione del dragaggio del porto La figlia della donna scomparsa rivolge un accorato appello all'amministrazione comunale E alla ditta che eseguirà i lavori Essendo venuta a conoscenza che si faranno questi lavori di dragaggio Peraltro leggo dalla stampa che saranno seguiti anche da un tecnico della regione Marche Tutti i lavori saranno fatti, visionati da una telecamera L'appello che faccio è di porre la massima attenzione per le ditte che ci lavoreranno Per i tecnici che saranno lì se riescono, se individuano, trovano qualcosa o un resto di un vestiario del corpo di mia madre Chiedo semplicemente questa collaborazione qui perché è una cosa importante per me, umanamente per mia madre Salvezza della Santa Croce con chirurgia Una nuova struttura convenzionata a Fano e 20 milioni di euro per la viabilità Questi sono solo alcuni dei punti presenti in un protocollo di intesa tra regione e comune Approvato oggi dalla giunta regionale La giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra regione e comune di Fano Sull'assetto delle strutture ospedaliere dopo la realizzazione del nuovo ospedale Con la sottoscrizione del documento, comune e regione chiariscono il futuro assetto dell'offerta sanitaria nel territorio L'ospedale Santa Croce di Fano continuerà ad essere uno stabilimento degli ospedali riuniti Marche Nord E a svolgere funzioni sanitarie integrate con la nuova struttura In grado di erogare attività soprattutto di tipo chirurgico Tra gli obiettivi rientrano anche quello di ridurre la mobilità passiva verso altre regioni E migliorare le performance sanitarie ed economiche Inoltre verranno riqualificati i servizi sanitari nel territorio provinciale Senza aumentare la spesa né ridurre la quota per la sanità pubblica A favore dell'incremento di occupati Il comune cederà per la realizzazione della nuova struttura il terreno La regione garantirà la disponibilità dei relativi posti letto ospedalieri E istituirà a Fano, in deroga al piano del fabbisogno 80 nuovi posti letto a destinazione socio-sanitaria 40 per le RSA, 20 per le cure intermedie e 20 posti per le demenze Per il territorio poi la regione si impegna a ricercare adeguate soluzioni funzionarie e finanziarie Con ANAS, Società Autostrade e Ministero delle Infrastrutture Per realizzare un principale asseviario alternativo alla strada statale adriatica Che colleghi i sistemi urbani di Fano e Pesaro Agevolando così il collegamento con il nuovo ospedale unico previsto in località Muraglia Infine, 20 milioni di euro della Fondo per lo sviluppo e coesione regionale Verranno messi a disposizione dalla regione al comune Per migliorare la viabilità esistente e confermare quanto previsto nella convenzione siglata Da Autostrade, Regione, Provincia di Pesaro Urbino e Comune di Fano Sulle risorse stabilite per il nuovo svincolo autostradale E sulla approvazione da parte della giunta del protocollo di intesa Arriva il commento positivo del vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi Finalmente possiamo attestare che il Santa Croce rimarrà aperto a esordito È un importante risultato per la città di Fano e per il territorio a tutela della salute dei cittadini Fano, precisa Minardi, avrà dunque due ospedali Il Santa Croce e una clinica privata convenzionata a Chiaruccia Complementare alla sanità pubblica per recuperare la mobilità passiva di coloro che vanno a curarsi fuori regione Il Santa Croce continuerà a derogare gli stessi servizi di oggi Fino all'entrata in funzione del nuovo ospedale E dopo quella data i cittadini potranno contare su tutte le prestazioni di cui hanno necessità A partire dal pronto soccorso con tutti i codici, la diagnostica e la specialistica A questo risultato, conclude il vicepresidente Si aggiungono i 20 milioni di euro per la viabilità da Fano verso Pesaro La cifra più alta mai stanziata dalla regione ad un comune E domenica pomeriggio in un locale all'Arzilla di Fano è scoppiata una rissa tra albanesi e un fanese di 20 anni del posto Dunque, che sarebbe stato aggredito dal gruppo Sull'argomento oggi è intervenuto il segretario di Fratelli d'Italia Fano, Stefano Polegioni Che lancia un appello al prefetto per chiedere più controlli Questo chiaramente rappresenta un problema che torna in auge proprio nell'avvicinarsi dell'estate La movita che riprende il suo cammino con tantissimi giovani qui a Fano E quindi ritorna il tema della sicurezza di cui bisogna sicuramente parlarne in modo anche concreto Io faccio due appelli, uno lo faccio al prefetto Mi sembra che questo prefetto sia una persona molto sensibile a questi temi Molto attenta al territorio Sappiamo che purtroppo le nostre forze dell'ordine soffrono grandemente della mancanza di personale Fano non è esente da questo E per quando si parla di sicurezza e per parlare di sicurezza abbiamo bisogno di personale Delle forze dell'ordine e di pattuglie che girano Senza esse la sicurezza non c'è Quindi chiedo al prefetto di farsi portavoce a Roma Di chiedere più personale per Fano In modo da poter controllare questa città In modo da poter arginare questi fatti Perché Fano è una città tranquilla e vuole rimanere tranquilla Un altro appello lo faccio anche al sindaco Perché anche la polizia locale Oltre ai controlli che devono fare loro nei locali Per quello che riguarda le bevande alcoliche e quant'altro Le autorizzazioni e quant'altro L'utilizzo della polizia locale anche di notte Almeno ai fini settimana A noi non basta che si determini la notte come servizio fino a luna Perché sappiamo benissimo che la movita è tutta la notte E i problemi poi iniziano in genere quando sono le 5 del mattino Per cui anche la collaborazione della polizia locale Con le forze dell'ordine Sarebbe davvero un valore aggiunto molto apprezzato E che potrebbe rendere più sicura la nostra città Quindi io mi ripeto nel proporre un tavolo Per l'ordine e la sicurezza locale Che non si sostituisca a quello del prefetto Ma che sia un tavolo comunale Dove le forze dell'ordine si parlano Dove le forze dell'ordine possano decidere In che modo poter rendere più sicuro il territorio E più sicura la città Anche in vista dell'estate In modo che certi fatti non accadano più E domani anche a Fano si festeggia Il 73esimo anniversario della liberazione Con una tradizionale cerimonia Che avrà inizio alle 10.15 davanti alla residenza comunale Qui sulle lapide dei partigiani fanisi caduti Verrà depositata una corona da loro Il corteo poi si sposterà per un'altra deposizione di corone Al monumento alla resistenza donato dal Lampi Collocato nei giardini Biancheria a Morelli E al monumento alla resistenza nei giardini della Rocca Malatestiana E al monumento ai caduti di tutte le guerre in Viale Bozzi Il programma si concluderà alle ore 11 in Piazza Costanzi Per un concerto del Corpo Bandistico Città di Fano Ed è iniziato nei giorni scorsi Il potenziamento della condotta idrica a Sant'Angelo in Vado Per dare risposte, evidenziano il Presidente Il Direttore dell'Ato Daniele Tagliolini e Michele Ranocchi Ad un territorio in cui erano ancora presenti aree Non servite da acquedotto L'intervento è inserito nella programmazione dell'Ato E progettato dal gestore Marche Multiservizi Che lo sta realizzando attraverso un'impresa selezionata Accogliamo con grande piacere, ha detto il Sindaco Gian Alberto Luzzi Il completamento di questa incompiuta In questi anni gli utenti hanno sofferto molto La mancanza del servizio adattandosi con dei depositi Nei prossimi giorni si interverrà anche a margine della strada statale Senza problemi per la circolazione e per potenziare la condotta principale E la fauna selvatica, lo snellimento della burocrazia e il ritardo Nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Tanti temi cari agli agricoltori da continuare ad affrontare sin da subito A ribadirlo anche Tommaso Di Sante Già Presidente regionale di Coldiretti Che è stato confermato alla guida della Federazione di Pesaro Urbino Per il prossimo quinquennio Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea Che si è riunita ieri al santuario del Pelingo di Acqualagna E fervono i preparativi per la Colle Marathon La Maratona dei Valori che si terrà il prossimo 6 maggio da Barchi a Fano Per l'evento è già stata superata la soglia dei mille iscritti E ormai una consuetudine il superamento dei mille partecipanti Ma il fatto di essere arrivati alle tre cifre due settimane prima dell'evento È di buon auspicio per un'edizione da record È iniziato dunque il conto alla rovescia per la Colle Marathon 2018 Che ha già registrato 750 iscrizioni Per la Maratona Classica di 42 km e 195 metri da Barchi a Fano E 250 iscritti per la mezza maratona che prenderà il via da Mondolfo A questi numeri vanno poi aggiunti gli atleti dell'Anguifano Che come ogni anno si cimenteranno nei vari percorsi Nelle discipline Nordic Walking e Fit Walking Quest'anno arriveremo alla Rocca Malatestiana Quindi si partirà da Barchi alle 9 In contemporanea partirà da Mondolfo anche la mezza maratona Quindi ci sarà, ecco, invitiamo tutti quanti Per far sì che tutti siano presenti in questo percorso Perché sarà un grande spettacolo Fino a tre giorni prima della partenza Quindi fino a giovedì noi accetteremo iscrizioni Perché si stanno ultimando anche tanta gente del posto che si mette in gioco Quindi prepariamo anche loro Abbiamo concordato con i vigili E con tutta la protezione civile Proloco tutti Quindi cercheremo di non disturbare più di tanto anche chi lavora Quindi mezza città sarà libera E arriveremo alla Rocca Passando sempre via mare Quindi ci sarà, ecco, un bel percorso Dove tra l'altro sarà tanto animato quest'anno Grazie ai gruppi musicali Che ci saranno sul percorso E ci sarà tanta animazione Ci sarà Fano Jazz La Pandolfaccia C'è la Proloco che farà un gran lavoro CSI Avis Fano Quindi abbiamo tante associazioni Tante sinergie Tanta coesione sul territorio Saranno 14 gli alberghi aperti nel comprensorio Nel fine settimana del 6 maggio Che dovrebbero far registrare il tutto esaurito Dati che ancora una volta confermano Quella che è una caratteristica della Maratona dei Valori Vale a dire la capacità di muovere un indotto importante Coniugando sport, turismo e cultura Di presenze tantissime Perché intorno alla Colle Marathon Girano circa 2500 persone Non solo 2500 persone Ma una promozione immensa Perché tutto il nostro territorio vive su questo evento Gli alberghi che sono pieni Sono quelli al centro storico Perché la Colle Marathon Quest'anno hanno avuto una bellissima idea Di fare l'arrivo al centro storico E quello è importante Il dopo evento Gli albergatori lasciano a disposizione Parecchi per fare le docce Ritornare alla normalità Perché dopo 42 km Una bella faticaccia Bellissima l'idea di fare Mondolfo la mezza maratona Perché porterà tanta tanta gente Non solo gli sportivi Ma anche gli appassionati della camminata Il Movimento 5 Stelle oggi È intervenuto sulla Fano dei Cesari I consiglieri comunali si dicono stupiti Per il fatto che a fine aprile Non si sappiano ancora i contenuti di questo evento C'è poco tempo per promuoverlo Non si sa ancora Se ci saranno fondi sufficienti per realizzarlo E ad oggi non si è neanche ragionato Sul tema sicurezza Che ha creato problemi organizzativi Anche nell'ultima edizione del Carnevale Questa di sé riscrivono in una nota Ci sembra una sparata propagandistica elettorale E una proposta bislacca Presentata fuori tempo massimo Dimostrazione spiegano Nel fatto che a bilancio Non ci sono fondi disponibili In modo chiaro e trasparente Secondo noi Concludono i pentastellati È importante dare continuità Alla manifestazione Per questo proponiamo Il sostegno all'evento Non solo per tre anni Come richiesto dal sindaco Ma per ben sei E se amministreremo noi la città Dal 2019 Assicuriamo che già in bilancio Le risorse stanziate Saranno ben più Dei 50.000 euro Promessi oggi In modo così nebuloso E incerto Adesso invece vi mostriamo Un post pubblicato oggi Dalla sindaco di Pesaro Matteo Ricci Sulla sua pagina Facebook Finalmente ha scritto Il sindaco Il primo cittadino Il tradizionale mercatino Del pesce Al mattino sarà coperto Permettendo ai pescatori Di vendere In una struttura attrezzata Come in altri porti europei Abbiamo ottenuto Un finanziamento europeo Tramite la regione Marche E abbiamo provato oggi Il progetto esecutivo I lavori sono previsti Per l'autunno Poi ha aggiunto Stiamo risolvendo Un po' di questioni burocratiche Con la capitaneria Vorremmo infatti Fare un bando Per un bici grill Cibo Servizi per la bicicletta E giardino sistemato Ecco magari nei prossimi giorni Il primo cittadino Darà maggiori dettagli Noi invece Questa sera Trasmetteremo box Poi in cucina Con lo chef Guarda chi c'è E infine uno speciale Dedicato a ristoranti In via non a strada A Bellocchi di Fano Che ha cambiato gestione E ha rinnovato i locali Invece Questo è il numero di telefono In cui potete mandare Tutte le vostre segnalazioni Per la nostra redazione Sempre molto importanti Il nostro telegiornale Torna puntuale domani sera Alle 20 e 30 Buon proseguimento di serata Arrivederci Grazie a tutti